Il Costa Rica è la terra della serenità, è il vero gioiello dell'America centrale, affacciato su Atlantico e Pacifico. Un'oasi di tranquillità che offre spiagge meravigliose, foreste tropicali incontaminate e un'amabile accoglienza d'antica tradizione. Il 27% del territorio è riservato a parchi nazionali ed aree protette, che racchiudono il 60% della diversità biologica del pianeta, rendendo questo paese il vero paradiso dell'ecoturismo. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica Con un governo democratico dal 1889, l'assenza dell'esercito e un presidente Oscar Arias premiato col Nobel per la pace, il Costa Rica è giustamente definito la Svizzera del Centro Nella capitale, San José, si trovano grandi magazzini, gallerie con negozi, teatri, musei storici, ristoranti caratteristici e mercati pittoreschi. Il clima è stupendo e basta allontanarsi di pochi chilometri per trovarsi in parchi naturali meravigliosi, avvolti da un concerto di suoni, profumi e colori unici e indimenticabili. Il clima migliore del Costa Rica si trova nella regione di Guanacaste il cui simbolo è il Matapan, un albero gigantesco. Qui personaggi di fama internazionale hanno costruito residenze in luoghi da sogno. Il mare è pescosissimo, anche a pochi metri dalla riva, con acque limpidissime e una incredibile varietà di pesce. E proprio qui, nella Baia di Flamingo, progettato con grande attenzione ai problemi di impatto ambientale, sorge il villaggio Flor de Pacifico. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Il villaggio si confonde con la natura tropicale. Alcune delle spiagge più belle del mondo sono a portata di mano. Playa Penca, con la sua bianchissima sabbia. Playa Conchal, colorata da granelli di conchiglie rosa. Playa Grande, dove si può assistere a un raro spettacolo della natura, la deposizione delle uova delle tartarughe marine. Playa Flamingo, che prende il nome dall'omonimo centro. Porto rinomato per le manifestazioni mondiali di pesca d'altura, dove si trovano ristoranti, discoteche, negozi, supermercati e casinò. Vicino al villaggio, inoltre, ci sono ben tre campi da golf a 18 buche, tra i migliori al mondo. E Flor de Pacifico, più volte l'anno, organizza Golf Clinic, con maestri italiani di livello internazionale. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Nel villaggio Flor de Pacifico, troviamo una confortevole piscina con idromassaggio. Un rinomato ristorante con cucina italiana. Centro vacanze e benessere. Campi da tennis, centro sub, noleggio auto, moto e canoe. I giardini tropicali, disegnati da un noto architetto italiano, circondano le costruzioni. Elegantemente arredate, con pavimenti e rivestimenti in ceramica e con porte e finestre in legno massiccio. Dettagli curati nei minimi particolari, per garantire il massimo comfort. Gestione italiana, a garanzia dei vostri soggiorni. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Un fantastico viaggio tra le ultime meraviglie del pianeta. A cavallo sulle più belle spiagge del mondo, a caccia del Blue Marlin. Cavalcando le onde col surf, al ritmo della natura. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Villaggio Flor de Pacifico, pura vida in Costa Rica. Grazie a tutti.